Signori, buongiorno, Leo Carax in regista, Oli Motors, che è l'ultimo DVD contenuto in questo cofanetto di 7 film, 7, 2, 4, 6, 7. C'è un collegamento con Merd che ho già recensito, adesso non vorrei che siano tutti collegati perché, non lo so, gli altri non li ho ancora visti, comunque è strano, è strano forte, anche questo finisce nella playlist film strani, una cosa carina senza fare, ci sono le tombe con su scritto guarda il mio sito, ci sono delle cose molto carine, molto originali, è da vedere, io gli do un 8 e mezzo, veramente, è strano, non è velocissimo, ma porco Giuda che roba è strana, buh, guardate, vediamo quando ho finito il cofanetto.